Parliamo di teatro, venerdì 22, l'Associazione Culturale Mitra presenta la commedia, un libretto di Mepaci. Sentiamo il regista Piero Coffano. Venerdì 22 maggio al Politeama, l'Associazione Culturale Mitra, che già ben conosciamo e si è insediata bene nel territorio, possiamo dire così, presenterà questa volta, dopo il musical bellissimo, ecco, sono qui dedicato a Maria, ovviamente, la commedia brillante in due atti di Giovanni Allotta dal titolo Un libretto di Mepaci. Insomma, già fa un po' intuire e fa ridere il titolo, no? Quindi penso che sia una cosa legata a questioni più economiche, no? In ogni caso, nuovamente, la regia di Piero Coffano. Allora, raccontaci un po' come nasce questa altra idea di ritornare alla commedia e come mai avete scelto questa? Sì, ritornare, intanto buonasera a tutti, ritornare alla commedia, noi siamo nati con la commedia teatrale, poi siamo passati al musical, quindi, e adesso ritorniamo di nuovo alla commedia, quindi dalle risate alle emozioni, dalle emozioni alle risate. Abbiamo scelto proprio questa commedia fra tante, tantissime commedie che avevo letto, proprio perché questa è divertente, e poi soprattutto perché è stata scritta da un ragazzo giovane, Giovanni Allotta, infatti un ragazzo giovanissimo, quindi la nostra associazione è composta da tantissimi giovani di Caltagironi, quindi perché non dare spazio anche a lui, anche se non lo conosciamo personalmente, perché non dare spazio e far conoscere la sua opera, diciamo. Tra l'altro voi siete un'associazione molto giovane, siete davvero tanti, adesso quanti siete diventati? Adesso siamo dieci, perché la commedia ci ha portato proprio a ridurre il numero dei personaggi, quindi siamo dieci. Dico velocemente chi sono, sono i protagonisti, infatti sono dieci, che rudano attorno a questo libretto, perché il capofamiglia che sarei io cerca disperatamente questo libretto che tempo fa in testo suo padre, in banca, però l'ho depositato sotto il nome mio e di mia sorella, quindi con mia sorella c'è un rapporto conflittuale, quindi l'interesse dei soldi, lui il capofamiglia ha la testa dura, non vuole lavoro, però gli unici soldi risparmi che ha se li mangia giocando i numeri dell'otto, quindi la moglie poverina disperatissima dice ma pensiamo anche a nostra figlia che studia all'università, cerchiamo di darle un futuro. Poi la figlia presenta il fidanzato ai genitori, in casa poi subentrano anche i genitori del fidanzato, marito e moglie non si smentiscono mai, davanti, diciamo, i consuoceri fanno figuracce proprio bruttissime, la figlia giustamente legata alla faccia a terra dice guarda non siete proprio il caso, i genitori nel senso, il modello, ecco il modello dei genitori, proprio niente. Poi il capofamiglia ha un sogno, subentrano anche la dea bendata, che è la dea della fortuna, che poi porterà fortuna ma non svelerò il segreto, il capofamiglia ha anche un amico che giocano sempre i numeri sempre all'otto e questo, cioè siamo dieci personaggi che ruotano attorno a sto libretto e soprattutto al padre che poi nella commedia farà il ruolo principale e farà una fine da scoprire. Farà una fine da scoprire, benissimo. Gli altri personaggi principali chi sono? Sono Desiria Amato che è la moglie, Veronica Malizia che è infatti mia sorella, il padre Ignazio Gianrusso, la figlia Ilaria Ledda, l'amico di famiglia diciamo è Flavio Ledda, poi abbiamo il fidanzato Giovanni Azzaro, il padre e la madre del fidanzato sono Dario Lobbianco e Chiara Ledda ed infine la dea bendata che è Chiara Blancato. Quanto tempo ci avete messo? Tre mesetti, adesso proprio gli ultimi giorni stiamo martellando. Sì, esatto, perché abbiamo finito a dicembre con il musico, poi l'abbiamo di nuovo riportato in scena, abbiamo ripreso in mano questo progetto e adesso stiamo martellando per portarlo in scena, proprio determinati. Benissimo, allora in bocca al lupo, venerdì 22 maggio al Politeama, inizio alle 21.30, ovviamente biglietti in prevendita, quindi un costo proprio bassissimo in risorio, veramente vale la pena, 6 euro, anche perché insomma abbiamo visto che siete abbastanza capaci di stare in scena, insomma fate passare delle serate gradevoli, questa volta quindi c'è solo da divertire, quindi piangere dalle troppe risate, va benissimo. Ricordiamo quindi, ridiamo l'appuntamento, il titolo della commedia. Un libretto di mei padri, il 22 maggio al Politeama di Caltagirone, il costo di 6 euro, potete trovare anche i biglietti in prevendita al bottiglino. Io non ho altro da aggiungere, Facebook, Mitra, Arte e Spettacolo, ho il numero di telefono 389-5144-586. Non mi resta altro di dirvi niente, vi aspettiamo perché sappiamo che siete sempre numerosi, non ci abbandonate mai, grazie. Regia di Piero Coffano ovviamente. Grazie.